Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati, ecco una nuova pillola del Coraggio di ogni giorno, sono davvero contento di avere con noi oggi in collegamento Sara Zambotti da Milano, voce e conduttrice di Caterpillar, storico programma di Rai Radio 2, grazie Sara per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Felice, è un piacere per me ritrovare te ed essere vostra ospite. Il Coraggio di ogni giorno è anche un po' quello che si fa appunto con la radio, raccontando storie, esperienze, vissuti, ma soprattutto con l'impegno sociale che soprattutto con Caterpillar portate avanti ormai da anni. Uno tra questi mi viene in mente per esempio la campagna Mi Illumino di meno, una storica campagna di Radio 2 che è diventata poi tra l'altro quest'anno anche giornata nazionale istituita dal Parlamento. Perché nasce questa esperienza? Stiamo vedendo anche qui delle immagini di quanto appunto storici edifici dell'Italia spengono le loro luci per diciamo sostenere questa campagna per il risparmio energetico. Come nasce questa campagna? Mi Illumino di meno, ma nasce nel periodo in cui fu di fatto redatto il protocollo di Chioto, in Italia era in corso la prima notte bianca, quella voluta dal allora sindaco di Roma Walter Veltroni, la città di Roma viveva un momento, diciamo una lunga notte di persone in giro per la città, quindi con un grosso carico energetico e ci fu un blackout, in realtà un blackout causato da un albero che cadde su una centralina in Svizzera e questo poi provocò un disagio nella distribuzione dell'energia elettrica in tutta Italia. In quel momento i conduttori di Caterpillar cominciarono a riflettere in un periodo in cui pochissimi lo facevano, c'erano pochissime persone che cominciavano a parlare di fotovoltaico, si parlava di decrescita felice, ma insomma erano ancora discorsi molto molto di nicchia e invece i conduttori di Caterpillar, io ai tempi non mi prendo meriti che non sono miei, c'era Filippo Solibelli insieme a Massimo Ciri, capirono, intuirono che il tema dell'energia sarebbe diventato una grande emergenza e lanciarono quest'idea, l'idea di un silenzio energetico simbolico, cioè alle 18, momento di inizio della trasmissione Caterpillar su Radio 2, tutti furono invitati a spegnere le luci per un momento e immediatamente la risposta fu straordinaria e oggi festeggiamo il riconoscimento di Milumino di meno come giornata votata in Parlamento, giornata nazionale degli stili di vita sostenibili e di fatto una consapevolezza appunto molto maggiore ma anche un'emergenza climatica come ben sai felice decisamente più impellente. Sara, in realtà l'impegno di Caterpillar è un impegno attivo soprattutto ai temi della legalità, questo programma Il Coraggio di ogni giorno quest'anno racconta un po' fino al 19 luglio storie ed esperienze di chi quotidianamente svolge il proprio dovere fino a quando arriveremo appunto il 19 luglio all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Voi avete un legame particolare con Libra, con la situazione di Donciotti, tra l'altro legame in qualche modo evidenziato nuovamente anche quest'anno al termine del Caterraduno, l'evento in cui la radio, Radio 2 esce fuori dagli studi radiofonici e incontra la gente. Siete stati a Pesaro dal 30 giugno al 3 luglio e c'è stato anche lì un momento in cui anche quest'anno con Libra avete rinforzato e evidenziato nuovamente questo legame tra Caterpillar e l'associazione fondata da Donciotti. Quanto è importante poter parlare anche di legalità e di giustizia sociale anche e soprattutto attraverso la radio? Il Caterraduno, hai detto bene, è il momento in cui si fa comunità. Noi crediamo molto alla missione del servizio pubblico che sia una missione anche proprio legata così alla comunità, ai territori e quindi a fine stagione andiamo, sono state molte le città che hanno accolto il Caterraduno in questi anni e da quest'anno diciamo dopo aver lasciato Senigallia siamo arrivati a Pesaro. Quello che c'è sempre al Caterraduno è l'appuntamento con Libra, cambiano l'iniziativa a supporto di Libra, sono state fatte delle aste, raccolte fondi per molti anni in cui personaggi come anche Romano Prodi ha donato una bicicletta che è stata messa all'asta, ci sono stati Alessandro Bergonzoni un copione, insomma moltissime persone che hanno regalato degli oggetti a sostegno dei progetti di Libra e c'è sempre un momento che è quello del sabato in cui arriva Don Luigi Ciotti e in qualche modo così risveglia le nostre anime, le nostre coscienze. Quest'anno a Pesaro è stato particolarmente emozionante, c'è stato un applauso di una piazza con diciamo mille persone in piedi, un applauso che è durato almeno credo quattro minuti per Don Luigi Ciotti, abbiamo realizzato una rullata per Libra, c'erano 60 batterie in piazza, lavanda Osiris, le persone hanno portato delle percussioni da casa perché invece che fare il classico minuto di silenzio abbiamo pensato di fare un minuto di rumore per dire basta alla criminalità e il progetto che siamo andati a sostenere quest'anno è un progetto assolutamente importantissimo che riguarda le donne perché Don Luigi Ciotti ha raccontato che spesso il vero scarto nelle famiglie mafiose lo possono fare le donne che decidono di uscire dal circuito della famiglia mafiosa ma vanno sostenute economicamente e quindi questo progetto permette di sostenere le donne che decidono di rompere in qualche modo il legame familiasico mafioso e quindi questo è stato il momento di Libera per noi al Caterraduno. Tra l'altro lo ricordiamo anche con l'intervento del coro Bambini Libera Musica e con lo storico intervento ormai annuale una tradizione della banda Osiris. Grazie Sara per essere stata con noi, grazie per questa preziosata testimonianza, l'appuntamento ovviamente lo ricordiamo anche con te per tutti coloro che ti vogliono ascoltare come sempre quotidianamente su Caterpillar insieme a Massimo Ciri, li vediamo anche qui in questa foto che la legge ci manda di entrambi voi durante anche il Caterraduno. Grazie ancora per essere stata con noi e in bocca al lupo per tutto e grazie per questa testimonianza. Anche a te felice, grazie mille, grazie davvero, grazie dell'attenzione, a presto. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.